Siamo all'Istituto Martin Luther King di Favara con la nuova dirigente scolastica, la professoressa Mirella Vella. Come sta affrontando la scuola questo periodo di Covid in vista anche della riapertura che sarà nei primi giorni di gennaio? Diciamo che ci siamo organizzati bene da subito, non abbiamo avuto grosse difficoltà e anche a partire dalla settimana scorsa abbiamo riaperto i laboratori del legio artistico per il triennio, per le classi terze, quarta e quinta così come previsto nel DPCM della normativa i laboratori non erano esperibili in altro modo se non che in presenza. Chiaramente i ragazzi sono contingentati, massimo 14 e soprattutto abbiamo anche avuto una serie di rapporti interistituzionali con l'Aspi di Agrigento che ci ha consentito di fare uno screening a tutti gli alunni prima di rientrare e non che a tutto il personale scolastico, quindi una grande sinergia con il territorio, con le famiglie e con l'utenza e diciamo che i risultati sono estremamente positivi. Parliamo di Open Day, ci avviamo i primi di gennaio all'apertura del nuovo anno scolastico, quest'anno sicuramente non è fatto in presenza ma sarà fatto via telematica. Cosa possiamo dire sulla nuova programmazione che lei intenderà portare avanti nel nuovo anno scolastico? Il liceo Martin Luther King così come da sempre sarà un liceo accogliente, inclusivo, è un liceo in cui ognuno troverà un'offerta formativa personalizzata. Già abbiamo tre indirizzi di studio e questo consente non solo di orientare ma soprattutto di riorientare gli studenti anche nel corso del primo biennio e per cui dico ai genitori di seguirci nelle nostre dirette in streaming che faremo a partire dal 21 dicembre e dopo soprattutto Covid permettente a gennaio vedremo di fare anche conoscere la nostra scuola che è veramente un fiore all'occhiello della provincia di Grigento.